La nostra azienda vende viaggio online tramite un network di consulenti di viaggio, i quali per poterlo fare usano una piattaforma web da noi prodotta e a loro venduta, con tutta la relativa formazione, tecnica, turistica e marketing. Questo ad esempio è il sito, ogni consulente ha il proprio dominio internet, come se fosse un negozio indipendente, si promuovono da soli in internet e lavorano le richieste del pubblico. Questa ad esempio è una nostra consulente con tutti quanti i dati, contattano lei direttamente o compilano un modulo dell'offerta del sito web. Oltre al sito internet il consulente ha la possibilità di accedere all'agenzia online, cioè alla internet aziendale. Vi faccio vedere quella nuova che uscirà in primavera, completamente fatta in Java, queste sono delle bozze. Qui in questa intranet ci sono 800 persone che collaborano e comunicano fra di loro con tutti gli strumenti più avanzati dei social. Dai post alla possibilità di commentare, alla sezione della formazione, alla dashboard, con tutti i conteggi dei preventivi delle vendite che fanno, con le comunicazioni nostre della sede e tutto quello che serve per poter lavorare al meglio. Tutti gli strumenti, dai CRS per le prenotazioni dei viaggi, a qualsiasi altro strumento utile come agente di viaggio per vendere al pubblico. Questa piattaforma è venduta dalla nostra software house a chi vuole diventare agente e lo formiamo noi direttamente da zero. Le nostre agenzie a Malta e negli Stati Uniti vendono viaggi e incassano direttamente dal cliente finale. Quindi ogni pratica è certificata e controllata dalle nostre agenzie e i documenti di viaggio vengono spediti direttamente al cliente. Ogni consulente può lavorare quindi da dove vuole e smart working perché la parte di back office la gestiamo noi.